Anch'io desidero intervenire per ricordare Milzia De Caprini. Io sono un uomo che viene dalla destra e lui, come è noto, è stato ricordato dalla sinistra, poi dalla sinistra estrema. Ho appreso con profondo dolore la sua scomparsa. E voglio ricordare qui che un giorno in un intervento io citai una frase di Lenin e lui che presiedeva mi mandò una lettera che conservo ancora nella quale mi diceva ma dove cavolo hai trovato questa frase che io che sono un cultore di Lenin non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avesse inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme di politica ma con grande rispetto reciproco.